Ormai molti di voi saranno già confiniti di sapere tutto, 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 tutto quello che c'è sulla RTX 4090 Potrei anche dirvi che effettivamente non è così, è che c'è molto più di quello che voi pensate da sapere Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video Comunque processori, scaramate i RAM, quello che volete, ma alla fine comunque serve il sistema operativo Almeno la chiave di Windows paghiamola poco Infatti con Keysfun, di cui trovate il link in descrizione, potete avere, grazie al coupon che vedete adesso a schermo Un bello scondo sull'acquisto di Windows 10 o Windows 11, fino anche al 50%, è tutto molto semplice Voi mettete il codice, arriva la chiave per email, la mettete su Windows e il gioco è fatto, Windows è attivato Mi raccomando ragazzi, il link è in descrizione Allora, RTX 4090, uscita sul mercato due giorni fa, perché oggi che registro è 13, no, scusate, fermi Due giorni fa c'erano le review, ieri è uscita sul mercato E infatti avete visto già il primo approccio con le Founders Oggi, che voi vedete il video, è venerdì C'è qualcosa in più che possiamo sapere su questa scheda Scheda per cui mi sono preso il mio tempo per sviscerare Perché sarei potuto uscire prima, molto prima, molto molto prima con questa scheda Chi vuole capire capisca, però no, ho deciso comunque di comportarmi bene Sono stato buono e soprattutto mi ha dato l'opportunità di poter andare a visionare e a vedere Effettivamente dei comportamenti che questa scheda va a riportare in determinati situazioni Che sono alquanto interessanti Prima di tutto, partiamo un attimo con questa scheda RTX 4090, in questo caso è la versione Gigabyte Winforce Come voi sapete, la scheda possiede 24 GB di RAM GDDR6X Con un bus a 324 bit Dei boost clock molto importanti La Winforce arriva a dei boost clock fino anche a 2750 MHz Che è davvero tanto ed anche un bel po' di più Rispetto per esempio a quanto era preventivato inizialmente Durante la presentazione dell'RTX 49, soprattutto da parte di Nvidia Per quanto riguarda le Founders Il che tra l'altro rispetto ai calcoli che avevamo fatto nel video precedente Non nelle live, nel video precedente Poteva andare effettivamente a modificare un pochettino i rapporti di potenza Ma alla fine comunque non mi piace dire che avevo ragione Ma avevo ragione, effettivamente Le performance che ho riscontrato dell'RTX 4090 rispetto all'RTX 3090 Si sono rivelate, almeno per quanto riguarda il gaming E questa qui è una cosa molto importante In linea con le derivate L'RTX 4090 Winforce di Gigabyte È una scheda video che ovviamente dichiaro max power di 450 Watt Anche se in realtà, devo dirvi la verità Nelle funzioni di consumo medio Soprattutto per quanto riguarda il game Tra i 360 e i 375 Watt Abbiamo come valori Ovviamente c'è il classico nuovo connettore Dove praticamente è possibile andare a inserire 4 cavi PCI Express Molto importante inserirne 4 Perché praticamente consultando 3 cavi con questa nuova specifica Non vi dà la possibilità poi di poter alzare il power limit Andare poi a toccare gli overclock Fatto stare, comunque è molto importante sempre avere questi cavi ben dimensionati Per un semplice motivo Comunque per quanto riguarda i valori sui transienti Ovvero sui picchi di potenza che richiede questa scheda Può arrivare anche oltre 450 Watt E quindi insomma andare a creare qualche problema Una cosa è certa Si era parlato inizialmente per molti mesi E' girata questa falsa voce di questi picchi Di 900 Watt Di questa scheda che doveva consumare 2,5 KW In realtà no Devo dirvi la verità Dal punto di vista prestazionale È una scheda video anche molto efficiente Questa cosa l'ho potuta valutare Soprattutto per quanto riguarda l'ambito Idol Perché avendo fatto mining per diverso tempo Posso dirvi che un RTX 3090 in Idol Si comporta decisamente peggio dell'RTX 4090 Il che già questa cosa è un bene E ovviamente il rapporto performance Watt Rispetto alla 3090 è comunque molto elevato E l'abbiamo già visto nei video precedenti Come anche il rapporto performance Watt Per quanto riguarda i Qtacore Che ogni Qtacore dell'RTX 4090 Va a consumare circa 0,027 Watt È molto vantaggioso Sicuramente è una scheda grossa Però pensata anche molto bene La WinForce ha la capacità di rimanere Molto molto fresca come scheda Nei picchi maggiori di lavoro L'ho vista intorno ai 60 gradi Nota molto molto positiva Anche per quanto riguarda la temperatura delle memorie Ci troviamo in questo caso davanti ad una scheda Che effettivamente riesce a raffreddare le memorie Sappiamo come le GDDR6X Per quanto riguarda la serie 3000 Sono state leggermente problematiche Spesso quando c'erano carichi Molto intensi sulle memorie Mining ma non solo Molti altri carichi sono ovviamente Intensi sulle memorie Si andava a vedere le temperature che superavano i 90 Anche i 100 gradi In questo caso devo dire che comunque Le temperature rimangono molto più umane Al di sotto degli 80 gradi Ho spinto la scheda per diverse ore Per diverso tempo Ho riscontrato questa temperatura Devo dire che comunque Il mio mi trovavo in una situazione di open case E la scheda è stata provata con un 7950X Che era raffreddato da un Deepcool LS720 Di cui poi probabilmente tra poco arriverà un video E tra l'altro all'interno posso dire della stanza C'erano anche altre ventole e tutto Quindi comunque insomma Si trovavano in una condizione abbastanza fresca Probabilmente all'interno di un case chiuso Queste temperature potrebbero subire delle variazioni Soprattutto se non è adeguatamente arieggiato Cosa cambia quindi dell'architettura Tra l'RTX 4090 e l'RTX 3090 Quella che cambia di più è sicuramente La generazione dei cores che vengono utilizzati Abbiamo i Tensor Core di quarta generazione E i Ray Core di terza generazione E ci ho pure azzeccato Questi Tensor Core si narra Almeno da secondo specifico E possono essere fino a 5 volte più veloci Rispetto a quelli precedenti Tant'è che infatti è uno dei motivi Per cui troviamo su queste schede Il DLSS 3 E invece magari non lo troviamo Almeno al momento Sull'RTX Di serie minori Arriverà un video a riguardo Anche su sta cosa Che non so se è un bene o un male Però arriverà un video a riguardo Su sta cosa I Ray Core anche questi sono stati migliorati Riescono a darvi più performance Tant'è che infatti L'RTX 4090 Dà il meglio di sé Per quanto riguarda L'ampito di RTX e DLSS Una cosa molto importante Che ci tengo a dire subito Per quanto si spinga molto Sul marketing di RTX e DLSS Soprattutto del DLSS 3 Non sono uno standard Ok? Non è questa la condizione standard In cui si gioca Ci sono sempre più giochi Che adottano questi tipi Di Questi tipi di algoritmi Il fatto tra l'altro Che NVIDIA Abbia da poco Aperto Per modo di dire In modo molto lato I driver Tra l'altro ho provato L'RTX 4090 Sia con i driver NVIDIA Sia con i driver OpenGPU Gli Open Kernel Mod Insomma I driver Linux Perché ho fatto anche diversi Essi su Linux Di cui poi parleremo più avanti Può dare sicuramente Una mano agli sviluppatori Per rintrodurre ancora di più Queste tecnologie Ma al momento Il fatto di essere adottate Va a cambiare Soltanto a determinati giochi E diciamo che Anche senza Si può sopravvivere Questo me lo concedete Parti più interessanti Secondo me Sono lo shader Execution Reordering Che è praticamente Questo nuovo algoritmo Il parallelizzatore Perché abbiamo visto Ci è stato spiegato Da NVIDIA Come nelle serie precedenti L'RTX 3000 Ci fossero problemi A non riuscire a sfruttare Da dovere tutti i gutacors Che le schede video avevano Perché praticamente Il compito del gaming Soprattutto è molto serializzato Questo algoritmo Invece permette Di aiutare A parallelizzare il compito Per avere risultati maggiori Soprattutto per quanto riguarda Il retracing Un'altra parte fondamentale Che ho anche Sui test su cui mi sono Soffermato Poiché tra l'altro Purtroppo pare che faccio Il content creator È l'introduzione Dell'encoder AV1 Molto molto interessante Fino a questo momento L'unica scheda Ad averlo Erano le schede video Intel Anzi L'A380 Perché l'A750 E l'A770 Sono uscite insieme All'RTX 4090 Questo Cambia molto Cambia un sacco di cose Sono due Cambiamenti più importanti Anzi Il SER E l'encoder AV1 Sono I cambiamenti più importanti Per quanto riguarda La tecnologia L'RTX 4000 Che Nella visione L'RTX 4090 Non è una scheda Viva da gaming Ok Io Voglio essere molto chiaro Con questa cosa Abbiamo delle performance Mostruose Per quanto riguarda La resterizzazione Per quanto riguarda Il DLSS Quello che state per vedere Tra poco Sono cose Che Lasciano veramente dire Ok 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 Allora Quella che state vedendo Al momento a schermo È la chart Dei risultati Che ho fatto Sui test Per quanto riguarda Linux Ho testato tutto Vi ripeto Con un 7950X 32 GB di RAM Di DR5 Non mi ricordo Se erano 6000 Celle 32 6004 Celle 32 Vabbè Posso garantirvi Che quella cosa Non faceva molta differenza La scheda madre Che abbiamo utilizzato In questo caso È la X670 Taf Una scheda madre Che devo dirvi la verità Mi ha stupito Perché guardandola Non è neanche Tra le più costorie Dell'X770 Che comunque Hanno un costo Abbastanza elevato Ma riesce comunque A gestire In modo Molto soddisfacente Il processore E tutti i compiti Di lavoro Che sono stati La cosa che più Mi ha colpito Di questa scheda madre È il fatto Che nonostante Fosse sul Linux E bastava Semplicemente Aggiornare il kernel Infatti ho fatto I test Col kernel Sia 5.15 Che sul kernel 6.0 E 6.01 Quindi ho fatto Una marea di test Insomma Questo è il risultato Più o meno Generale Di quello che vedete La linea verde È la 4090 Quelli alti Sono test Con la 3090 Penso che potrebbe Bastare già Questo per farvi capire Di cosa stiamo parlando Ma di cosa stiamo parlando Per quanto riguarda L'X670 Vi dicevo È bastato Aggiornare il kernel E trovare una marea Di sensori Infiniti Che mi davano La possibilità Di vedere effettivamente Tutto quello Di cui avevo bisogno È una cosa rara Trovarla su Linux Per quanto riguarda Posso dire Le novità È stato un bel tocco Oltre ovviamente Comunque Ad avere un comparto VRM Di buona fattura Ed ovviamente Ha aiutato anche Comunque Ormai io sono innamorato Dell'Ethernet veloce Da 2.5 Che veramente Mi ha permesso Comunque di passarmi I dati e file Tutte le volte Che ho dovuto farlo In maniera Ultra ultra veloce Allora Il primo calcolo Il primo test Che vedete È il VKPIC Praticamente Sono i famosi calcoli Non so se avete visto Il numero dei teraflop Quanti teraflop In FP 16 FP32 Eccetera Ecco praticamente Sono dei calcoli Accelerati Dal motore Vulkan Della GPU E possiamo vedere Come in questo caso Per quanto riguarda Appunto questo tipo Di calcoli accelerati La RTX 4090 Nonostante abbia Soltanto il 60% Circa di Q da corsi In più Rispetto alla RTX 3090 Vediamo che riesce a fare Punteggi Che sono più Del 100% In più Rispetto Alla RTX 3090 Ed è una situazione Assurda Perché Tolto Il DLSS Per quanto riguarda Il gaming È una situazione Che non si trova mai E questa situazione Va Ovviamente Per tutti i tipi di carichi Che ci sono stati fatti Come potete vedere Nel test È veramente Sempre così Alcune volte Si sfiora Molto di più Anche il 100% Ed è qualcosa Di assurdo Il fatto comunque Che per una scheda Che viene venduta Per gaming In realtà Per quanto riguarda Questi algoritmi Di calcolo Che essenzialmente Questo algoritmo Che voi vedete Il VEC 4 Oppure I calcoli scalari Possono essere poi Riutilizzati Ovviamente A seconda Del vario tipo Di utilizzo Vuol dire che Voi vedete Come va La 4090 Su questo algoritmo Poi con l'algoritmo Potete decidere Utilizzarlo Come volete Chi lo utilizza Per i calcoli In fisica Chi lo utilizza Per le simulazioni Eccetera Eccetera È assurdo Comunque vedere Come per questo ambito La 4090 Sia Molto Il progetto La 3090 Molto Invidia Parlavo tanto Di intelligenza Artificiale E di reti neurali La presentazione Di invidia È stata anche Fortemente Influenzata Da questa parte E quindi Molti Anzi Dei test Che ho fatto Sono stati appunti Per quanto riguarda Le reti neurali Il primo Che vediamo qui È praticamente Il real SRN Cnn È essenzialmente Diciamo Un sistema Di reti neurali Che va a spottare La super resolution Quindi praticamente Qualcosa Che vediamo anche Col DLSS Incluso anche Il noise injection Quindi essenzialmente È una manipolazione Di immagini Sempre per quanto riguarda Upscaling E downscaling Anche in questo caso Vediamo come Tramite sempre Le librerie Vulcan Riusciamo a vedere Come la 4090 C'ha delle performance Anche in questo caso Molto molto alte In questo caso Non arriviamo a performance Per due Ma posso garantirvi Che si tratta Di risultati Che sono veramente giganti Messi a paragone Sempre con una 3090 Ricordo sempre Che magari Questi tipi di test Non possono interessare A molti Per effettivamente Vedere che una scheda Del genere Che Io vi ripeto Sì Gamer Quello che volete Però Se io Avessi un laboratorio E 2300 euro Da spendere È un investimento Che farei E non mi peserebbe Affatto farlo Soprattutto perché In determinati casi Il tempo È oro Letteralmente La stessa cosa La stessa cosa Praticamente La vediamo Che si Ripercuote Anche sui test Per quanto riguarda Appunto Il waifu 2 Waifu Sì lo so ragazzi Vi fa molto ridere Però praticamente È semplicemente Un convertitore Di progetti E anche in questo caso Vediamo come Riesce a fare Il compito Molto molto velocemente Anche in questo caso Per quanto riguarda Si parla di nuovo Di algoritmi Con il vkfft Praticamente Questo è un tipo Di calcolo Che va ad utilizzare La trasformata Di Fourier E non starò qui A farvi le lezioni Di analisi Anche perché Hanno una capra In analisi E quindi è meglio Che io non parli Anche in questo caso Vedete come le performance Sono decisamente più elevate Hashcat è uno di quei test Che praticamente Va a guardare La forza bruta Loro lo chiamano Come il recupero password In realtà Un vero e proprio Attacco brute force Sì Se volete fare Un attacco brute force E utilizzare la 4090 Potrebbe anche essere Una buona idea Però non lo fate Siamo buoni Ovviamente Vedete come Questo tipo di performance Si applica Anche Su dei tipi di algoritmi Che hanno una criptazione Molto forte Come la Xiaomi 512 O stesso modo Anche su file 7 zip Vedete che va abbastanza forte E in qualsiasi caso Comunque è sempre Molto molto più veloce Rispetto all'RTX 3090 Come vedete Ci sono alcuni test Che non sono stati fatti Poi ovviamente Non è che sono tutte rose e fiori E a proposito Non sono tutte rose e fiori Qui iniziamo a vedere Le prime particolarità Le prime problematiche Che accompagnano L'RTX 4090 Ora Una scheda video Tanto potente Sapete bene Che la potenza È nulla Senza il controllo Lo diceva Pirelli Mica uno qualsia Sia La pubblicità della Pirelli O era Michelin Non mi ricordo Quelli che facevano le gomme Dicevano una cosa del genere Quindi Il fatto che mentono Vediamo che effettivamente In alcuni test I risultati Sono Molto Bassi Possiamo Perché questo Perché effettivamente Una delle problematiche Che ho riscontrato Soprattutto All'inizio È che per far andare La scheda Probabilmente Per essere il primo In Italia E probabilmente Il primo al mondo A farla andare Quasi completamente Sul Linux Perché ho dovuto Compilare I kernel Da capo Ho dovuto Compilare i driver Da capo I driver Che vi dà NVIDIA Tra l'altro Quelli che vi Permette di scaricare A parte che I driver per Windows Sono usciti tipo Due ore prima Di quelli per Linux E già quello È stato Delirante Ma soprattutto I driver Che vi dà NVIDIA Non sono compatibili Con la maggior parte Dei kernel Devi andare Praticamente A modificare Il kernel E io mi sono dovuto Rifare i kernel Da capo Per farli funzionare Sia per quanto riguarda I driver OpenGPU Sia per quanto riguarda I driver Proprietari di NVIDIA E comunque Ci sono alcuni casi In cui possiamo vedere Che i risultati Non sono per nulla Soddisfacenti In alcuni ambiti C'è ancora molto Lavoro da fare Per quanto invece Riguarda Windows Si notano Delle problematiche Sono state riscontrate Anche per esempio Da altri recensori Ne ha parlato Linus Ne ha parlato GamerNexus Se non sbaglio Ne ha parlato anche Jay Con le versioni di Windows Windows 11 22 H2 Che è comunque La versione con cui Io l'ho provata Per il semplice motivo Che avendola provata Con un processore nuovo La proverò Con altri processori nuovi Non posso dire nient'altro Questi processori Vanno molto meglio Con la 22 H2 L'Aeret X4090 Sta facendo un pochettino A cazzotti Quei driver Diciamo Nulla di eccezionale Su Windows Nulla che non possa essere Superato Su Linux La situazione È un pochettino più Eh Ci serve un pochettino Di lavoretto Che cavolo Non è che Dobbiamo essere tutti Sviluppatori Per poter far funzionare Il diavolo di driver In questo caso Comunque vediamo Che dove la scheda Funziona Funziona bene Dove non funziona Funziona veramente male Vediamo che In alcuni ambiti C'è il test in OpenCL Questo qua Il gem Di shock Che praticamente Anche questo È sempre un test di computazione Vi ripeto Questi sono algoritmi Che voi potete utilizzare Per fare determinate cose Scegliete poi voi Come li potete utilizzare Qua abbiamo addirittura Un 3x Più di 3x Sarà tipo 3,5x Allucinante E poi abbiamo Nello stesso modo Il test Per esempio Questo qua Il bus speed download Che è un test Praticamente Proprio sulla banda Passante Che invece È veramente negativo Questo qui Perché probabilmente C'è qualche problema Anche da quel punto di vista Però Insomma Ce ne faremo una ragione Una delle parti fondamentali Poi di questa scheda È la 4090 Sono le memorie Essenzialmente Sono molto simili A quella della 3090 A quanto pare L'unica cosa Che ci abbiano di più È un pochettino Di frequenza Anche perché Le GDDR6X Che stavano sulla 3090 Erano già spaventose Vediamo comunque Che in questo caso È stato un piccolo Incremento di performance Che poi nel combo totale Aiuta e non poco Tutto il resto Ne vediamo alcune volte Per 2 Per 3 Per 4 Dipende anche Dal questo 10% 20% Che vediamo sulle memorie Non sottovalutate mai Il carico delle memorie Non sottovalutate mai Le temperature delle memorie Perché sappiate Che se le memorie Vi vanno in thermal throttling Tutta la scheda Ne risente Se le memorie Vanno male Tutta la scheda Ne le risente Siamo ormai A un livello Che siamo molto RAM dipendenti Che sia VRAM Che sia RAM Eccetera Dobbiamo avere Le quantità adeguate E devono funzionare bene Altrimenti Il PC Va male Ora Questi Iniziano ad essere I veri test Strafighi Che comunque ci danno anche Un'idea Di come effettivamente Determine tecnologie Che Nvidia Ha portato Sull'RTX Vadano Tanto tanto forti Il VK Ad esempio Si prende un'immagine In 4K E si passa in 8K Qualsiasi cosa Utilizzi Soprattutto Vedete nel primo test La precisione doppia Il risultato È spaventoso Quello che però È meno spaventoso Sono i risultati Poi in gaming Questi qua Vanno rappresentati Diciamo Nei gaming Competitivi Qui La maggior parte Dei casi Possiamo notare Come Ovviamente Il processore 3090 Questo qui Il test Sta rifatti Col 5950X Se non sbaglio La 4090 Invece Col 6950X Ma posso Credervi Che sono test Praticamente Molto GPU Intensi Il processore Non fa Suoramente Nulla In questo caso Vediamo Comunque Come poi I problemi Driver Si ripercuotono Allo stesso modo Anche in questo caso Vedete Infatti Come In tutti i benchmark Il pattern È sempre lo stesso Ovvero Che c'è Il CPU Che va A bottleneck Di punto in bianco In 4K Il bottleneck Non è più La CPU La 4090 Per qualche assurdo motivo Decide che non deve più andare Per quanto riguarda Etty Legacy Invece Per quanto riguarda Gli altri tipi di giochi Sempre provati Diciamo Con le stesse modalità Vediamo che comunque La stabilità In quel caso Rimane maggiore Fino a che Poi non si arriva A Warzone Che invece Poi mette un cap Netto A tutto E semplicemente Puoi arrivare In alcuni casi Dove non trovi Benefici Vi ricordo Ovviamente Che anche Una delle cose Più importanti Per quanto riguarda Queste valutazioni Per i giochi E per non solo È anche Dovuta Al motore di gioco E a quando Sono vecchio Eccetera Infatti Dopo vedrete Anche altri giochi Un pochettino Più magari A cui siete interessati Qui più che altro Mi interessa Il comportamento Della scheda Eterna Delle miele situazioni Poi per quanto riguarda Il benchmarking Gaming Arrivano dopo Octane Bench È la prima volta Che abbiamo a che fare Per quanto riguarda Il rendering Della 4090 Performance In rendering Da paura Anche in questo caso Ci abbiamo Per due Effettivamente Sulle performance Della 3090 In Octane Bench Che comunque Un bench È anche abbastanza Pesante Paraview È semplicemente Un test Che Ti dice Quante cose Riesco a gestire A schermo Ok In una determinata Situazione Si Gestisce Il doppio Delle cose Che può gestire Un RTX 3090 Vediamo A qualsiasi Risoluzione In qualsiasi Modo Viene provata È stato fatto Il test Più volte Ed è sempre Lo stesso Risultato Con risoluzioni Diverse È sempre Così È sempre Così Questa scheda video Per quanto riguarda La computazione Tutto ciò Che ne deriva È qualcosa Di assurdo Assurdo Non so se qualcuno Di voi È anche esperto Di folding At home Che è un progetto Che ti permette Di mettere Al servizio Il tuo computer Per la scienza E quindi Lasciarlo acceso Per fargli fare Determinati tipi di calcoli Un pochettino Come si fa Con il mining Insomma E anche in questo caso Vediamo come Le performanti Della scheda Sono migliorate Non di tanto Ma sono migliorate Rodinia È come i test Che abbiamo fatto Fino a questo momento Ma Non sfrutta Vulcan Sfrutta Cuda E come vedete Il risultato Anche in questo caso È eccezionale Ci mette praticamente La metà del tempo Per fare le cose C'è soltanto Una piccola problematica Voi dovete sapere Che su Linux Dovete installare Il driver E poi se voi Utilizzare gli applicativi Di sviluppo Cuda Dovete installare Anche il Cuda Toolkit Installare il Cuda Toolkit Rompe il driver Nel senso che Se voi installate Il driver E il Cuda Toolkit Non andate più A schermo Ok Nonostante questo Io andavo a schermo Non installare il Cuda Toolkit E lui qualche test In Cuda L'ha fatto comunque Ora Diciamo che Siamo molto particolari A fare questa cosa Dipende poi sempre Il test cosa utilizza Però è una situazione Che abbiamo ritrovato Anche prima Per esempio Prima avete visto Siamo arrivati a MixBench Ed era completamente vuoto Perché mi erano rotto Le scatole Di installare E disinstallare Kernel Cuda Eccetera eccetera Quindi non l'ho fatto proprio Però sappiate Che in alcuni ambiti Potete trovare dei problemi Per quanto riguarda Il Cuda Toolkit Lo dico soprattutto I ragazzi Che fanno sviluppo Su questa cosa Luxe con render E per quanto riguarda Il 3D rendering L'abbiamo visto già Diverse volte Ancora nella presentazione Invidia Che facevano vedere Queste shading In 3D Che venivano mosse Praticamente al momento Va a fare un forte utilizzo Per quanto riguarda Il Tensor Core E gli R2 Core E in questo caso Come anche nella presentazione Vediamo come la 4090 C'è delle performance Terribili Terribili in senso positivo Rispetto alla 3090 È un altro mondo Qui sono semplicemente Altri test di compilazione E potete vedere Come questi test Mi servono soltanto Per farvi capire Che la potenza computazionale Che c'è questa scheda C'è talmente tanta potenza Dentro questa scheda Che comprarla per gaming È uno spreco Ok Comprare questa scheda Per avere il 70% Di performance In più in gaming È uno spreco Il 70% di performance Che tra l'altro Rispetto a già Di livelli assurdi Ok Cioè Rendetevi conto Questa scheda Quanto possa essere Effettivamente utile A chi lavora A chi fa Deremei dividi di cose Cioè Questo è il lavoro vero Questo è quello Che una scheda video Dovrebbe fare E questa scheda video Lo fa quasi sempre In questo caso No Come potete vedere In alcuni test Lo fa quasi sempre Al meglio E quando Non lo fa al meglio Come in questo caso È una semplice problematica Driver Dovuta al fatto Che Sono usciti due giorni fa Secondo me Nel giro di un mese Mettono a posto i driver E qui c'è Barbagi un carro armato Anche come dimensioni Più o meno Ce la somiglia Anche in questo caso Retine orale In questo caso Per quanto riguarda I framework Di sviluppo mobile La storia è sempre quella Ormai l'avete capito Con qualsiasi cosa Gli fai fare Questa scheda Lo fa meglio E lo fa più veloce Punto E quando fa le cose Tra l'altro Rispetto alla 3090 Non impiega le stesse energie E quindi lo fa anche Consumando meno È assurdo questo Per finire Passiamo a qualcosa Di un pochettino più reale Che sono i test in Blender E i test in Blender Allora Ci sono dei risultati Che sono interessanti Però alcuni Che non rispecchiano Poi effettivamente L'andamento Con i test precedenti Per esempio Guardare il test BMV Che effettivamente Il tempo recuperato Rispetto alla 3090 È poco E altri test invece Che vanno a rispettare Però vedete Non è sempre Quel rapporto di per due Che si vede Per quanto riguarda Il calcolo computazionale Sembra che sia una scheda Che sia stata fatta Molto più per quello La parte Ai di NVIDIA La parte diciamo Proprio HPC Che ci ha messo NVIDIA dentro Sta scheda Che forse Non so Forse non era stata Creata per questo Penso che sia Molto più vicina All'H100 A qualcosa del genere Come scheda video Che è scheda video Da gaming È molto più forte Rispetto a poi Una scheda video Che dovrebbe essere Più qualcosa Tra una quadra Una GeForce Eccetera È una scheda Molto particolare Cioè Delle sfaccettature Che la rendono Tanto potente In gaming Semplicemente Perché è tanto potente A fare quest'altro Qualsiasi test Gli viene lanciato Ovviamente anche In OpenCL Che nominalmente Non utilizza NVIDIA OpenCL Magari molto più Qualcosa di AMD Anche in questo caso È una battaglia assurda Ora Arrivati a questo punto Sicuramente Ci sarà anche da parlare Per quanto riguarda Il gaming E i giochi Un pochettino Più importanti Per quanto riguarda Il gaming Allora Va ripensata Alla suite Non è possibile Provare questa scheda Con GTA 5 Non va provata Con giochi di 10 anni fa Dovete provarla Con giochi più nuovi E in questo caso C'ha ragione Intel Inizia a utilizzare DirectX 12 È una scheda Che va provata Con le cose nuove DirectX 12 Vulkan Eccetera Anche perché così Si riesce a dare il meglio E si riesce a sfruttare Ovviamente tutte le bontà Che porta Nella sua architettura Nonostante questo Cyberpunk Super mattone 4K maxato Con retracing maxato 37 FPS di media Passano gli anni Passa quello che volete Cyberpunk Rimane Cyberpunk Ovviamente Col DLSS in auto Torniamo In una condizione Ben superiore Ai 60 Frame E invece Senza i retracing Arriviamo praticamente Tra i 72 Ai 75 FPS In alcune recensioni Ho visto per esempio Quella di Linus Erano 130 Il problema è che Lì in quel caso Al Linus Era rimasto attivo All'FSR Una delle problematiche Che ho riscontrato Tra l'altro Per quanto riguarda Per quanto riguarda NVIDIA Ok Per quanto riguarda Questi driver E che ogni tanto Danno Cioè non è soltanto Su Cyberpunk Che succede Mi è successo Su Red Dead Redemption E mi è successo Su Hitman Praticamente ogni tanto Non so perché Con questa scheda E basta Mi succede Tra l'altro Perché con la 3090 Non mi è successo Con la 6900 Non mi è successo Non 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 da Cioè Non da Tu dai le impostazioni Al gioco E il gioco Non le prende Tu gli fai applica Niente Devi uscire E rientrare Oppure un altro Un workaround Un pochettino più veloce Che ho trovato In questo caso È quello semplicemente Di cambiare totalmente La risoluzione Tipo tu sai In 4K Te ne vai In 1080p Applichi Quindi vedi effettivamente Lo schermo Che si rimpicciolisce Dopodiché Ritorni in 4K E allora vedi Che si espande E allora soltanto In quel caso Ti applica Tutti i settaggi Che hai messo È l'unico workaround Sicuro che ho trovato Penso sia Non so se è dovuto Al driver Con Windows 22 H2 O soltanto al driver C'è questa problematica Quindi ecco Sappiatelo Hitman Sempre con retracing Maxato Quindi praticamente Tutta a palla Incluso retracing Siamo tra i 45 50 fps Comunque Belli alti No DLSS Vi ripeto Maxato senza DLSS Invece col DLSS Superiamo tranquillamente I 70 80 frames Insomma va Molto molto meglio Horizon Zero Dawn Gioco molto particolare Ho riscontrato Qualche fps in meno Rispetto a Ad altre testate Ne ho fatti circa 105 Anzi per l'esattezza 104 Anche in questo caso però Nonostante il mio workaround Non sono sicuro che Si sia preso correttamente Tutti i dettagli Anche perché ho visto qualcuno Fare di più La scheda Andere in thermal throttling Il processore Andere in thermal throttling Fatto sta che comunque Ci siamo fermati In 4k maxato Sopra i 100 fps Soia Che sfondiamo Ambiamente per quanto riguarda Invece Shift Tomb Raider Che ne facciamo Praticamente 155 Senza DLSS Cioè senza ray tracing E 106 Con il ray tracing Senza DLSS Red Dead Redemption In 4k maxato Arriviamo in questo caso Vicini ai 100 fps Anche in questo caso Abbiamo dovuto fare La manfrina Di cui vi ho parlato prima Fatto che comunque Siamo arrivati anche in questo caso A dei risultati Molto molto importanti E niente Questo è per quanto riguarda Il gaming Anche se però Il gaming Dobbiamo fare Un discorso Molto particolare Questa scheda Nonostante riesca a generare Anche frame Alli sopra dei 140 Per quanto riguarda Il 4k In giochi come Shadow of Doom Raider O anche altri O col DLSS O quello che volete Poi effettivamente Non riesce a trasmetterveli A schermo In che senso Sei impazzito? No! Cioè almeno Non sono impazzito io Però quando pare Nvidia Pensate che fosse Una buona idea Inserire delle porte HDMI 2.1 Displayport 1.4 Non andare oltre queste Che ti danno La possibilità Di avere E' vero Fino a 8k 60 hertz Ma fino a 4k 144 hertz E con questa scheda Giochi spesso Oltre i 4k A 144 hertz Soprattutto se il gioco Non è un mattone Perché ti devi conto Che se RDR2 Maxato Facendo FPS Basta che un gioco Non sia fatto Come qualcosa Che deve esplodere Per arrivarci A quella cifra Il che effettivamente Un pochettino Ti disturba Perché E' una modifica Da poco Sono quelle classiche cose Che vengono fatte Non sai neanche bene Il perché Come se ci avessi Troppa di quella roba E quindi la devo togliere E' una caduta Di stile Che sinceramente Poteva essere evitata Arriviamo quindi Alla fine Della disamina Di questa scheda Non sono sceso Nei particolari Ho detto Di DLSS Raytracing Perché semplicemente Credo che non ci sia La necessità Di farvi vedere Quanto forte vada Questa scheda In questi ambiti Anche perché Sono ambiti proprietario Di NVIDIA E questa qui Punta ad essere La flagship NVIDIA Per i prossimi due anni Una 4090 Ti Non lo so Sinceramente Non la vedo Neanche utile In questo momento Fatto sta Che comunque Parliamo del top Che NVIDIA Può proporti Ed è un top Veramente Tanto potente Molti si lamentano Del fatto Che dicono È il 60% In più Di performance Per il 60% In più Del costo Allora Tornando ad una Diciamo Situazione normale Rendetevi conto Che effettivamente Questa scheda Sì noi arriviamo A pagarla Molto di più Rispetto alla 3090 Ma l'economia È profondamente cambiata Oggi abbiamo Le rapporti Euro-Dollaro Dove l'euro Vale 0,96 dollari Quando è uscita Quando è uscita La 3090 L'euro valeva Tipo 1,20 dollari Insomma Un mercato diverso Abbiamo un regime Di rastrazione È completamente diverso Quindi paragonati Ad oggi 2300 2400 euro Che spendiamo Per questa 4090 Effettivamente È come se fossero 2000 euro Diciamo una cosa del genere Considerando anche L'inflazione e tutto Come se fossero Pochettino sotto I 2000 euro Per un incremento di performance Per un incremento di performance Che in tutti gli ambiti Che non sia nel gaming Caratterizzato È veramente Per due Per tre Va bene Ma questo apre la porta A delle problematiche Anche molto 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 Importanti Importanti per NVIDIA NVIDIA Non lancerà Soltanto la 4090 Deve lanciare Anche altre schede E ha già sul mercato Delle schede Molto 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 Potenti Che ad oggi Hanno anche dei prezzi Che non dico che sono vantaggiosi Però comunque Sono umani Ok Acquistare oggi Una 3090 Per 1000 euro Non è una cosa Così tanto Assurda Come lo era Comprarla Per 3000 Ok Se messa a paragoni I 1000 euro Della 3090 Con i 2300 Della 4090 Diciamo che è un rapporto Di forza Quasi pari Perché effettivamente La 4090 Ti dà il doppio in più Oggi Ok Di quanto paghi Una 3090 Effettivamente Te lo dà La problematica Sarà quando Arriveranno Le 4080 Schede di cui Sappiamo già Praticamente tutto E ormai Abbiamo appreso Come funziona E come lavora L'architettura Loveless Per quanto riguarda La 4090 E le 4000 La 4080 Soprattutto la 12 giga È la metà Di una 4090 Punto E la metà Di una 4090 Ad oggi Ce l'abbiamo già Il motivo in più Per cui tu dovresti pagare La 4080 Da 12 È per l'encoder A V1 E l'SR E ovviamente Il DLSS 3 Che però vi ripeto Arriverà un video a breve Che spiegherà alcune cose Molto importanti Anche su questo DLSS 3 Ma basta La situazione È questa qui Se avete questa necessità Se non siete dei gamer Soprattutto Se non dovete giocare E avete questa necessità Di lavorare Invidia credo Che abbia fatto Anche un danno A se stessa Per tutto ciò che riguarda Anche non lo so La parte volta La parte quadro La parte workstation Perché effettivamente Quella 4090 Va troppo Va troppo 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 Forte Anche in quegli ambiti Per essere usata Soltanto per giocare Ok È veramente Troppo troppo forte È una scheda Che dei 2000 euro Che ha Che costa Li vale Per il semplice motivo Che ti dà Quelle performance Ok Il problema Non sono Vi ripeto Non sono I 2000 euro Che costa la 4090 O 2300 Il problema Il problema Saranno I 1500 1600 1200 1300 Che costeranno Le 4080 Che dovrebbero essere Poi le schede video Per i giocatori Effettivamente Soltanto che i giocatori Acquisteranno quelle schede A un prezzo Maggiorato Rispetto alle RTX 3000 E non avranno Tutti questi grossi benefici Ok Non c'è Veramente un motivo Sia se tu vieni Da una serie precedente Da una 1000 Ok Sia che tu venga Da una 3000 Non hai un'effettiva Necessità Di non prendere In considerazione Una 3090 Non prendere In considerazione Una 6900 XT Eccetera Soprattutto Lasci Molto 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 Il fianco aperto A AMD Che anche se Non dovesse arrivare Alle performance Della 4090 Può comunque In quella fascia Al di sotto Dei 2000 euro Piazzarti una serie Di schede E anche sotto Le tue E effettivamente Tenere in mano Le retini del gioco E a quel punto Tu cosa vuoi fare Vuoi fondare Tutta la tua campagna Tutta la tua serie Su una singola 4090 O vuoi effettivamente Avere un prodotto Che sia Vario Su tutta la linea Anche perché Dalla 4080 A 12 giga Andare a tagliare Ancora Entri in un range Che secondo me Non è adeguato Perché Se tu tagli ancora Una 4080 E inizi a proporre A 900 euro Una scheda video Che ha delle performance Di una 3070 ti O di una 3080 A 900 euro Inizia a diventare Molto poco appetibile Per il mercato Sappiamo soprattutto Che quel tipo di mercato Quel tipo di gamer Chi oggi intende Spendere 900 euro Intende giocare al top E tu il top Gli hai dato Anche di più A 2300 euro Ma il resto L'hai lasciato Un pochettino in disparte Qui non si tratta Soltanto di Aver snobbato Tra virgolette Il mercato Dei giocatori Giocatori di fascia economica Diamola così Perché tu Non vuoi vedere A loro Qui si tratta Anche di aver Creato delle problematiche A chi invece I soldi per giocare Li vuole spendere E che probabilmente Non punterà Ad una 4080 Ed una 4090 Costa troppo E' inutile per giocare E' meglio anche Secondo me Che la lasciare A chi veramente C'ha bisogno di questa scheda Queste sono le grosse problematiche L'etrix 4090 E' una scheda che comunque A me piace Sono sincero E' una scheda che A me piace E' una scheda video Che è ancora acerba Spero possa migliorare Ancora di più E per il resto nulla Tra un mese Ci saranno Saranno uscite Le 4080 E ci sarà anche L'uscita da AMD E questa cosa potrebbe Ancora aiutarci Un pochettino di più A capire bene Come è la situazione Detto questo ragazzi Mi raccomando Fatemi sapere voi Cosa ne pensate Condividete E ci vediamo al prossimo video Ciao